Ciao ragazzi, benvenuti nel canale YouTube Crams of Life. Ho accolto la vostra richiesta con questo video, inauguro la rubrica dedicata alle drecce. Vi auguro buona visione e fatemi sapere cosa ne pensate. Raccogliete i capelli in una mezza coda abbastanza alta. Dividete la chioma in due ciocche, pronte per essere intrecciate. Dividete la chiocche in tre parti, così da iniziare il classico intrecce. Fate la stessa cosa dall'altro lato. Terminate le due trecce, iniziate ad appuntarle a vostro piacimento. Io le sovrapporrò. Preoccupatevi di nascondere bene la parte interbinale della treccia. Appuntate il tutto con delle forcine, fin quando non sentirete l'acconciatura ben salda sulla testa. A questo punto il gioco è fatto. Date un po' di volume e liberate qualche ciuffo. Potete inserire a vostro gusto forcine con strassi o decori vari. Fatemi sapere cosa ne pensate e mi raccomando mettete like.